Nell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è nata una vera e propria rivoluzione, Rivoluzione Ficarra. Il direttore generale dell'ASPA ha rivisto dopo circa 20 anni la pianta organica dei medici dell'area territoriale. La proposta che abbiamo fatto assieme ai direttori dei distretti e alle organizzazioni sindacali, sulla base della quale anziché avere i 244 medici nel territorio, compresi i 50 veterinari, che stiamo chiedendo all'assessorato, se ci consente di lasciare 244 medici nel territorio oltre i 50 veterinari. Questo ci consente una contrazione degli esuberi e sostanzialmente alcuni di questi medici andranno a fare un lavoro che avrebbero dovuto fare altri colleghi, per cui noi proponiamo di congelare nuove assunzioni e riutilizzare i medici che abbiamo, che ovviamente ognuno di loro dovrà fare un lavoro utile per l'azienda sanitaria. Fino a oggi che cosa hanno fatto? Sono stati in ufficio? Fino a oggi non c'è stata una pianta organica del territorio, per cui è per la prima volta, penso dopo 20 anni, che andiamo a individuare uno ad uno il personale in servizio. E questo, sottolinea Ficarra, è solo il primo passo, la rivoluzione coinvolgerà tutti. Dopo i medici si passerà agli infermieri, agli amministrativi, insomma a tutte le altre figure dell'azienda. Quindi quello che hanno fatto fino a oggi a noi interessa fino a un certo punto, invece quello che ci interessa è quello che faranno da oggi in poi. Abbandoneranno dunque le vecchie sedie e scrivenie per andare a svolgere i compiti per cui hanno i titoli, manzioni che però non hanno mai svolto. Si pensa ad esempio a chi ha il titolo da redeologo ma non lo esercitava, ed è per questo che sono state programmate delle azioni di tutoraggio. La direzione sanitaria, il dottore Lobosco, che per anni ha collaborato con l'università e assieme alla direzione amministrativa, hanno firmato un protocollo che prevede delle azioni di tutoraggio, per cui nessuno sarà mandato allo sbaraglio, non c'è nessuna preoccupazione per gli utenti, ognuno di loro sarà valutato dal direttore superiore gerarchico. E dopo i dipendenti, novità anche per i precari dell'ASP. Per quanto riguarda gli ausiliari sociosanitari, i loro contratti non sono stati rinnovati. Erano tutti fuori dalla pianta organica, per cui in una posizione abbastanza difficile da tutelare. Se un giorno si modificherà, dovesse modificare la pianta organica, questi ci rientreranno, si attingerà dalla graduatoria. Ma oggi le piante organiche, come sapete, sono bloccate. Diverso discorso per gli ex articolisti è l'SU. Noi siamo in attesa di direttive regionali, perché il giorno 31 dicembre ne scadevano 129-130. E siccome c'è poca chiarezza in materia anche di comportamento in ambito regionale da parte degli altri colleghi, li abbiamo potuti prerogare per un mese. Speriamo che entro un mese la Regione ci dia qualche chiarimento in merito. A spesa dell'ASP? Oggi sono a spesa dell'ASP, però dobbiamo dire che intanto svolgono un lavoro utile, per cui noi non abbiamo buttato i soldi, ma stiamo garantendo i servizi ai cittadini. In secondo luogo li abbiamo mantenuti per la parte che già era a spese dell'ASP. Grazie a tutti.